è la necropoli prunintu sorradile e questa è la tomba chiamata anche sangresia e si chiama così per via della sua architettura abbastanza particolare questa è un'inticella dalla quale si accede alla parte più propriamente separo clare ed è caratteristica questa che manca molto unica molto rara dell'architettura di queste due oltre queste due oltre questi due portelli c'è una parte dedicata a sé più di mezzo con un piccolo diritto di celle, corridori, altre porte che si ha un attimo, vai, illumina, che facciamo vedere dentro questo è il prodotto sono da dire